Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Non mi pare, però un'altra cosa che mi ha tanto triggerato per questo anche, che molto spesso entravo in modalità pilota automatico. Era la vera... No, un trapano nel cervello per due ore e ti va... però va bene, non importa. Due e mezza presto, sì dai. No dai, a partire di scherzi. Ma ve l'ho detto, io non dormo così tanto, quindi va benissimo. E Marco con il trapano palese si sta vendicando. Grazie, it's Razer Dave per l'abbonamento, se ti va... se ti va... punti schiamativo tegra. No, comunque posso dire? Era il trapano... era il massimo trapanale, sì. Eh, capito. È un casino. È un casino quando quello va bene e tutto restava male. È proprio un casino, perché quello è importante. E quindi dici, mmm... però poi ti rendi conto che no. Sesso rock, sì, esatto. Va bene, Max mi ha spaccato un vaso in testa. Ivan. Denuncina? Piccola denuncina... MD, oui! L'avevo visto. Piccola denun... denuncina. Oppure l'ha fatto... cioè... Intanto mi ero riso, sì, ok, ma mai ero ridi di qualsiasi cosa. Il metodo di Daniele è molto meglio. No! Non è vero. Non è vero. Perché poi dopo un po' sono... non si sarà soncillata per i cazzi loro, Daniele e Ciccio, ho detto, Mario, vogliamo andare di là e parliamo. Sì. Quanto voglio bene a quello stronzo. No! Imparato a Daniele così si curano i mali. Non è vero! Se dopo ritorna triste fa un altro ballo. Torture dance therapy, sì, sì, sì. Sì, sì, sì. No, però tutto questo denota quanto in quella casa non sono proprio... cioè, tipo le emozioni in quella casa non le sanno proprio gestire, eh. Persona sta male. Ah! Ballo! Secondo me c'è bisogno di entrambi. Prima dell'approccio, poi... Massimo, devo dire che la combo ha funzionato. Ok. Capiamo. Capiamo, capiamo. Vediamo. Quindi ti lascio da sola. Capiamo. Capiamo, capiamo. Che palle. Amico a cui stare attaccato perso, ho capito? Madonna, mi ammazzo. No, non mi ammazzo, però ho capito. Porca troia. Infatti, vediamo. La cosa positiva, dottore, questo per l'ottavo mese. Thank you so much. La cosa... Era anche amiche normali. Beh, che dire? Sì, non lo so. No, mi... Che penso? No, no. Devo parlare di panchechi anche, guarda che non c'è problema, la stanno che io. Ok. Dai, parla un po' di te. Cosa devo dire? Cosa? Fai, la crisi... Cioè, vuoi la crisi che hai avuto? La crisi che ho avuto. Beh, come lo psicologo, la stessa cosa. Però ci pagano loro, quindi è anche il video. Fantastico. Devo sentare un po' di video camera. Ok, ok, ok. Perché non vuole farsi vedere. Immaginavo. Immaginavo, immaginavo solo voce, raga, scusatemi. Avete già un'idea di che potrebbe essere, secondo voi? Eh? Ma quindi non scopriremo come si chiama? No, no, scoprirete. Scoprirete e magari zoomò su di me e vaffanculo. Nerd Collector. Grazie mille per l'avvento. Se ti va, appunto, scambativo Telegram. Thank you, thank you, thank you. Sì, andava bene lì. Andava letteralmente bene solo lì. Sì. Già. Eh, magari. A posto. Già. Sì, ma vi siete lasciati. Già, già. Già qualcosa, sì. Dopo questo l'hai convinta. Ormai conosco più i tuoi ex che i miei. Già. Già, già, già. Non funzionava, ci stavano a capire i nuovi meme e tutte quelle cose lì. Se le fate, scrivi su Telegram. Poi vediamo, poi vediamo. Pensi che loro pensano, non mi contatta da Securi, lo sta facendo ora perché vuole qualcosa. Almeno così a me succede. Oddio, dipende. Dipende. Allora, secondo me ci sono persone che è palese, che se ti ricontattano dopo mille anni è perché vogliono qualcosa. E ve l'avevo anche raccontato, ma tendenzialmente quando mi accorgo di questa cosa qua, sapete che odio le small talk, quindi taglio corto proprio. Taglio corto, faccio. Di Gianco, grazie per l'avvolamento, se ti va, appunto. Madonna, ma se. Ma sei Favij donna, perché? Minchia, questa è la prima volta che lo sento. Favij è la prima volta che mi dicono che sembro Favij. In primisima volta. Ho riuscito a un messaggio incredibile. Guardami, due secondi. Dicevo. Un tempo volevi essere chadda con dei bicipiti della cera, adesso vuoi solo fare il scuola del culo. Sì, sì, lo so. Ok. Pensavo che non esistessi, che era un frutto della mia immaginazione, perché molto spesso parlavo di questa chiara, ma tutti quanti, ah, secondo me non esiste, ah, ti pazzo. E l'ho sempre detto, che lei è l'esatto opposto mio, non abbiamo niente di simile, cioè, a parte magari come la pensiamo su certe cose, ma di base, lei non la vedete in questo momento, ma la tipica... Beh, comunque vorrei dire che secondo me la cosa più importante è essere d'accordo sulle cose, cioè, no, sulle tematiche, grandi, valori della vita. Abbiamo parlato sempre di cose interessanti, comunque, infatti, siamo stati su fino all'una e mezza a parlare. E, infatti, no, no, sono contenta, devo dire. Sentiamo cosa ne pensa. Eh no, io sono contenta, cioè, mi è piaciuto molto come persona. Vero? Eh sì. Anche le cose che dici, cioè, sono d'accordo. Cioè, eravamo quasi sempre d'accordo, praticamente. Mi hanno abolizzato. Quello è vero. Mi hanno abolizzato il merda. Beh, però scusatemi, cioè, avevamo anche ragione. Ma c'è diverso. No. Di che stai da parlare? Puoi dirlo. Come cazzo sta... Come sta il cazzo ti serve dimmelo subito? Più o meno è così. Ah, sì, una cosa da dirti. No. Da dirti, dai, giusto per fare la comare un po'. La comare? Che cazzo significa? Ne ho parlato anche con i papini. Aiutami Vogue, mi sto sentendo con qualche tipa. Che già questo è tutto che dire. Non gli piace un'anima manga e roba nerd, però è uguale a... Kirsten Ritter. Non so di che parlare che faccio. Bro, ma se ti stai sentendo qua, è tipo di cui non te ne frega un cazzo, ma di che stiamo parlando? Chi è Kirsten? Allora, anzitutto vediamo che cazzo è questa. Vediamo quanto è buona questa. E valutiamo. Valutiamo che dobbiamo fare. Wow, ok. Ok, ok, scopo te. Aspetta. È questa. Ok. Ok, 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 ok. Allora, a lei che cosa piace? Qua stessa cosa piace a lei? Tu dici, sì, anche a me. E poi, fa quello che devi fare e poi vattene. Mica! Bravo! Questo è anche vero. No, però una cosa, ecco. Perché mi sono venute le pare? Perché lei giustamente mi disse che magari in certe situazioni io non ci provo troppo. Com'è che mi avevi putto da giù? Sì, sì, sì. Piegala tu, dai. Allora. Va. Che se... Allora. Questo è un dato oggettivo, un dato di fatto, che spesso ha abbandonato delle situazioni, delle relazioni, perché iniziavano a crearsi dei problemi, cioè non iniziavano a... L'opportunità di salire ancora di più di gradatoria, intendo a farlo, ma alla fine hanno dato il posto a un altro, no, dai. Per poi averlo mille anni dopo, no? La vita non va mai come predictato. Mai. Ho scoperto proprio da loro che non è mai così, no? Quindi perché dobbiamo preoccuparci di fra cinque anni, se manco sappiamo il mese prossimo che cazzo succede? Ed è sbagliato... Ripeto, questo non significa che allora non fai un cazzo. Niente in comune. Infatti ci siamo ammazzati a vicenda. Però non è quello il punto. E però funzionava, non funzionava, però nel senso siamo stati insieme, quindi per qualche ragione... Sesso. Sì, andava bene lì. Andava letteralmente bene solo lì. Sì. Già. Eh, magari. A posto. A panchichi neanche un po' di coca, c'è bella differenza qui. Sì, ma panchichi è la serie B. C'ho capito? È dopo, è venuta dopo. Quindi si merita... Con calma. Fa dici anni forse la coca. Mario e Dino a giocare, non mi ricordo a cosa, no? E anche ora, tipo... Va tutto bene? Io sì. Ok? Mi rendo conto di sta cosa. Ma perché? E questa cosa a me capita spesso. Cioè, a me... Io non mi trascino dietro le cose. Non è che la devo processare. No! È quello il punto. Io non mi porto dietro le cose. Non me le trascino. Oddio, sto vestito come una persona normale. Raga, ultimamente ci sto provando un sacco. Ultimamente vi giuro che mi sto sempre vestendo con... Con vestiti da femmina normale. Ve lo giuro, ci sto provando. Non è rimasto senza mutande. A altre dieci volte voglio vedere se è rimasto... E se è rimasto con le mutande. E rimasto con le calze. Madonna, raga. Allora, mamma... Raga, madonna. Raga, madonna. Stasettimana. Stasettimana. E però poi ci ripensi dopo e dici ma che cazzo è successo. E quindi ho avuto quella realizzazione. Mi sa che tocca iniziare a fare lo streamer per vedere le giuce. Prima Michelle, Lucilla, poi ora... No, Lucilla non ha visto un cazzo. Perché ha fatto la pustia e non ha fatto vedere le tette. Solo io e Giulia abbiamo fatto vedere, lei no. Non mi ricordo se ho raccontato questa cosa. Ma è il massimo di tanto tocca chiederlo. Raga, porca puttana. Oddio, santo. Allora, io vi giuro. Vi giuro.